Che palle oh Che due coglioni Prima c'era solo la pubblicità Di Twitch c'era solo la pubblicità del coso Del ciocogrevo come cazzo si chiama Ma è cambiata Adesso c'è solo SoulGacy E' qualcosa di diverso Eh no hai dovuto capire perché il gioco me l'ha fatto bugare Perché dovevo resettare il rank Perché se no pare brutto Ah infatti Pare brutto Poi c'avevo uno che stava guardando Poi naturalmente se chiudi la live Puttana della madonna de cristo Hello there Hello there Oh NAN of course Oh NAN of course Oh NAN of course Oh NAN of course Oh NAN Oh NAN of course Ha 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 Sonia Oh mamma mia Yeah, Iappidum Dai 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 Carica questa partita Che è mezzogiorno Sì infatti poi fra un po' stacco Poi mi ricollego dopo pranzo Allora Sempre sta mappa bella E ho l'impressione Secondo me Io ne ho lascio due mappe Questa è di fuggiboschini Ah, maledizione Coglione Allora Allora La cacciatrice Tu senti cantare C'è questa cazzetta Uno l'ho fatto Con tutti gli skill check e celletti Quinti 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 Corico Quinti 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 ops è andato c'è un patto in aria è lì si è andato dietro arrivò qualcuno da te o no? si stavo in due ok allora continuo a fare sto generatore come stavo a fare intanto l'ho finito finito quel cazzo di perché che non fai rumore quando sei ferito eh si è bello infatti mi sono scorso qua mi ha visto ascoltate meglio lo faccio lo stesso perché se questo c'ho paura che si fai ai generatori potrebbe essere che abbia anche qualche altra cosa questo è vicino alla stalla rossa eh pure io sto vicino alla stalla rossa sto facendo il generatore fuori dalla stalla quello nella stalla l'ho fatto continua no dietro dietro girati giro indietro vicino ai muri diciamo ma chi a te sta qua di dove sta l'uscita eh io sto vicino all'uscita sempre vicino alla stalla si va bene facciamo due andiamo guarda io guarda te sto più quasi finito tirata la botta ma anche a te basta oh che cagato ho fatto ma ti ha perso si si ma ti ha perso sta con me le accette one shot che cagato si ma l'ha caricata instant eh non ha manco fatto ti ha messo tempo per caricare madonna che perk rotto di merda che è questo guarda che addon rotto proprio eh fratello andate via perché tanto questa qua rimane andate andate apro la stalla dimmi se arriva verso no no sta qua ferma proprio sta girando attorno sta pattugliando qua attorno che coglione ho sta venendo adesso eh porca puttana eh ci sono allontanata si ma non voglio essere curato con quella one shot non voglio essere curato voglio sta ferita c'ho morto sto chito almeno me salvo che ho morto sto chito no anche anche c'è guarda è di una cosa allucinata ma c'è tu solo c'hai le accette one shot ti metti anche no sul serio ma stiamo scherzando andate via cioè tu ti metti il no ed e le accette che one shot ma che problemi c'hai stanno in due qua vicino ma sono deficienti sto cercando il totem questo mi ha salvato provo a correre dall'altra parte sono tutte aperte a riuscire comunque frate no quella dietro di me non è aperta allora no quella più lontana è aperta è tanta aspetta un attimo aspetta un momento che qua sta facendo non mi piace per un cazzo devo trovare sto totem sto stronzo gli devo distruggere tutto ma la botola è nella casetta no ma visto ho salvato la tizia vai via esci esci stiamo a posto ce la fai o no aspetta non so dove cazzo l'uscita il killer sta vicino all'uscita se sta perso il killer sta vicino all'uscita io non ho perso ok sta vicino all'uscita la stalla la stalla è aperta la stalla è apriratizia non so se ce la fa tempo è ancora chiusa per il momento penso che ora vado a controllare l'altra uscita si è chiusa no quella della stalla è chiusa quell'altra è aperta invece quale altra dove sta è alla sinistra della stalla io sto vicino al generatore dei maiali ok è la tizia la tizia è morta non so se riesce a sapare cosi c'è qua certa one shot a cosa non so se riesce mi piace ancora il borro lo so ma come cazzo fai con no head attivo sono qua vicino non so se ce la faccio da scappare ma la sto portando via me la sto portata via dai salva il tizio si ma sto no head dov'è che non si vede oh madonna che coglioni morsa de ferro mi porta giù nel basement no il basement non era in fattoria no mi porta vicino all'altra uscita è chiusa no ma ce la faccio ad arrivare là con morto stecchito se non camper il problema è che se non vedo nessuno eh lo so non c'è da me eh da me non c'è da me non c'è senti andammo via quell'altra buona penso che stai inseguendo quell'altra eh quell'altra sta là il no head sta laggiù il no head ma quella è morta mi sa si mi sa di si mi sa di si aspettiamo ma mi sa di si oh lo cazzo va dentro il muro si è morto accetterò se no head ha fatto una kill accetterò se no head lascia 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 ha fatto una kill accetterò se no head ha fatto una kill quanto sei scarso quanto 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 sei scarso ah pure i kill è certo perché per vedere la gente quando appende perciò si allontanava francese francese eh però c'aveva una cetta eh cosa una cetta c'aveva ho capito che c'è una cetta ma se me la diri istante che cazzo scanzo dai oh ma non si può giocare con noi da cetta rossa dai che cazzo le budda oh brutto eh ma sei scarso forte tra parentesi perché no head no head accetterò e puttana della miseria niente oh non c'è c'è una kill è fatta è perso pure il pip perché naturalmente cioè è brutto così è brutto brutto proprio brutto brutto no mi fermo qua io ah è l'ultima no mi fermo qua mi devo fermare qua io no mi fermo qua io Grazie.